Io do subito il benvenuto all'unico relatore che era presente anche l'anno scorso, Luca Valtorta, una scelta non casuale innanzitutto perché il lavoro che è stato realizzato, oltre a conoscere quello che ha realizzato Valtorta nel corso della sua carriera e ad averlo seguito ed era il primo motivo per cui volevamo proprio lui a questo tavolo per la seconda volta. Abbiamo sempre molto apprezzato il lavoro che è stato realizzato con in particolare XL che troviamo sia un'idea straordinaria che deve continuare in Italia proprio per arrivare su un certo tipo di pubblico con un certo tipo di cultura e abbiamo chiesto che fosse XL il nostro media partner per il Link Festival, gentilmente ci è stato concesso quello che per noi è un privilegio e quindi c'erano tanti motivi per riavere nuovamente Luca Valtorta qui. Oggi parleremo di tanti aspetti ma naturalmente uno dei principali è quello della giornata, in realtà cioè il rapporto e l'interazione tra carta stampata e web, il modo in cui si sta evolvendo il mercato, quali sono le nuove possibilità sia di carattere lavorativo e produttivo ma anche di carattere prettamente editoriale, quindi comprendere un po' insieme a Luca Valtorta ma agli altri relatori che abbiamo avuto in che modo dobbiamo ripensare anche i contenuti in funzione dei media su cui vanno a finire. Quindi io ti cedo la parola, chiaramente poi noi stiamo comunque ricevendo delle domande, le stiamo recependo tramite Twitter, quindi ancora una volta vi ricordo che se su Twitter utilizzate l'hashtag linkfestival tutto attaccato, noi vi leggiamo e poi al termine della prima parte dell'esposizione di Valtorta inizieremo anche un dialogo assieme a lui. Bene, ben ritrovati visto che appunto l'anno scorso come diceva Michele sono stato uno di quelli che ha avuto il privilegio di partecipare a questo festival, molto bello devo dire che ha il merito di fare il punto sull'oggi, sull'oggi del giornalismo e devo dire che è un oggi come ci ha raccontato Bevi l'acqua e stamattina Cristiano Rocca, un oggi pieno di complicazioni, di complessità. Ovviamente anche quello che vi racconterò io adesso va in qualche modo a integrarsi con con ciò che hanno raccontato, anche io dividerò in qualche modo in due parti la mia esposizione, la prima riguarda ovviamente in qualche misura la nostra case history come mensile di Repubblica, oggi diventato a tutti gli effetti una testata online e la seconda parte invece sarà appunto più libera con le domande e potremo andare a discutere, fare un po' il punto anche di quello che probabilmente questi tre interventi hanno finito per mettere insieme. Come probabilmente sapete XL è stato per quasi dieci anni il mensile di Repubblica dedicato al pubblico più giovane, diciamo dai 15 ai 30-35 anni, ma in realtà si può andare anche più in là perché la trasversalità dei temi oggi non lo qualifica come un giornale di segmento prettamente giovanile, nel senso che oggi la musica la segue un quarantenne come un quarantacinquenne, come probabilmente sapete XL non si occupava comunque solamente di musica ma anche di cinema, arte, cultura, eccetera. Noi amavamo dire che appunto si trattava di un pubblico trasversale, amante appunto di un certo tipo di musica e di cultura e questo tipo di cinema e di cultura da noi proposto non era quello cosiddetto mainstream, ovvero di massa generalista, quello che in qualche modo rappresenta il prime time di canali come Rai 1 o Canale 5, ma ci rivolgevamo invece a, questi sono i dati in nostro possesso, a dircelo, ci rivolgevamo a un segmento con un alto tasso di scolarizzazione, forti capacità analitiche, spiccato senso critico. In questo senso riflettevamo esattamente il DNA di Repubblica, un giornale che si rivolge a un pubblico molto ampio ma con determinate caratteristiche, quali senso civico, attenzione alla politica, alla società, interesse per la cultura. Dal primo gennaio XL non è più un giornale di carta ma prosegue la sua esistenza nel mondo virtuale attraverso le forme di un sito e di un social network. Le ragioni di questa scelta sono di ordine economico e strategico. Economico perché, come raccontava anche Bevilacqua, a causa della crisi le risorse pubblicitarie dedicate, nello specifico i periodici in questi anni, sono drasticamente diminuite e si sono concentrati sui mezzi prioritari, che nel caso di Repubblica sono naturalmente il quotidiano e i due settimanali di e il venerdì. Strategico perché le analisi a lungo termine parlavano di una crisi dei periodici che sarebbe durata ancora a lungo, anzi, per la verità non si intravede assolutamente la fine di questa crisi perché in questo caso non si tratta solamente di crisi economica ma di una vera e propria crisi strutturale legata alla mutazione tecnologica che stiamo vivendo in questo periodo storico. Una mutazione talmente grande e importante che sta mettendo in crisi un modello di business ormai consolidato da molto tempo. Facciamo un passo indietro. XL nasceva appunto nell'agosto del 2005 proprio a partire da quel modello basato sulla pubblicità che ancora nel 2005 era in grande espansione, tanto da permettere di creare e lanciare su un mercato affollatissimo nuovi giornali e supplementi, in particolare il lancio di XL che veniva a sostituire il settimanale musica che io ho diretto negli ultimi sei mesi della sua storia, mentre lavoravo contestualmente al nuovo progetto, il lancio di XL andò talmente bene che nel giro di un paio d'anni il gruppo espresso decise di mettere sul mercato anche un altro mensile, Velvet, dedicato alla moda, un mensile anche quello che è stato innovatore nel suo campo e che ai suoi inizi ha avuto una straordinaria raccolta pubblicitaria ma che proprio per questo ha finito e in questo caso definitivamente la sua avventura un anno prima di XL. Questi ultimi due anni, è inutile nasconderselo, nel mondo dei periodici sono stati assolutamente drammatici, dopo una lunga e difficile resistenza il 2013 è stato l'anno delle catombe con grandi case editrici come RCS e Mondadori che hanno ceduto, chiuso i loro periodici. RCS in particolare ha ceduto una parte corposa delle sue testate, testate che hanno fatto la storia anche del costume italiano come Max e giornali blasonati come Il Mondo che ha chiuso definitivamente i battenti. Mondadori a sua volta ha venduto testate storiche come CHAC o PC professionali che è stata una delle prime testate destinate al mondo del personal computer e ha ceduto un piccolo editore con le visibili di Daniela Santanchè, quindi insomma un'epoca che in qualche modo si chiude. Nel segmento di cui XL faceva parte o in una parte del segmento ha chiuso gem e sono fortemente ridimensionate e testate come Mucchio Selvaggio che è passato attraverso tormentatissimi cambi di gestione e di collaboratori storici e rumore che ha cambiato gestione mentre il competitor diretto di XL, Rolling Stone, si è trovato a sua volta ad affrontare per la seconda volta nella sua storia un cambio di editore e per l'ennesima un cambio di concessionaria pubblicitaria. Nel segmento dei maschili invece GQ e Wired hanno a loro volta cambiato ancora una volta direttore e realizzato l'ennesimo restyling. Di fatto la realtà è che nessuno, né in Italia né nel mondo, come diceva anche Bevilacqua e io sottoscrivo questo pensiero purtroppo, nessuno ha un modello di business nuovo e chiaro davanti a sé. Di fatto si procede per tentativi ma quello che è sempre più evidente è che la rete sta modificando per sempre il modo in cui siamo abituati a fruire dell'innovazione, dell'informazione e dell'approfondimento, dell'intrattenimento che i periodici soprattutto erano soliti dare. In realtà questo è un tema che vale un po' per tutti i media, compresa la televisione. L'intrattenimento viene infatti fornito in maniere molto diverse e l'utente non accetta più di essere passivo, vuole partecipare, vuole essere interattivo con il media. L'utente in qualche modo diventa il media, un processo probabilmente inevitabile che ha risvolti comunque sia positivi che negativi. E qui entriamo nel cuore della rivoluzione vera e propria, ovvero quella operata soprattutto dai social media. Riallacciandoci a Bevilacqua ha scoperto la notizia della morte di Legoff da un social network per l'appunto. E non è casuale insomma. La rete, ce lo spiegava già Chris Anderson, ex direttore di Wired, nel suo saggio fondamentale La Coda Lunga, di fatto si sta strutturando in milioni di piccole comunità iper specializzate. Tutte queste micro comunità messe insieme formano una Coda lunga culturale che di fatto è più ampia di quello del cosiddetto mainstream generalista o di massa che dire si voglia. E si tratta di comunità in cui si va per discutere, per dire la propria, per confrontarsi e spesso e volentieri anche per litigare. In queste comunità il tema base è la conoscenza. La conoscenza come l'informazione è una caratteristica umana. Possono esserci informazioni che nessuno conosce ma non può esserci di fatto una conoscenza che nessuno conosce. Una prima condizione per definire la condivisione è che una particolare conoscenza vive solamente in menti capaci di comprenderla. La comunità in grado di discutere come si fanno le torte è sicuramente molto più grande di quella per esempio in grado di capire il greco antico o il sanscrito, l'aramaico o l'ingegneria aerospaziale. Il livello di istruzione è cruciale in questo contesto perché aumenta la dimensione della comunità in grado di usare qualsiasi tipo di conoscenza. Più membri di una comunità possono capire un particolare fatto, metodo storia, più è probabile che quelle persone saranno in grado di lavorare insieme per usare quelle conoscenze. La seconda condizione di fatto che influisce sulla combinabilità è il costo di condivisione della conoscenza. Qualunque cosa bassi il costo di trasmissione della conoscenza fa di fatto incrementare il numero dei suoi destinatari. Facciamo qualche esempio appunto. Quando il torchio tipografico ridusse il costo di produzione e di acquisto dei libri ci fu un fortissimo aumento del numero di persone che potevano leggere un libro e quindi del numero dei libri che un cittadino istruito poteva leggere nella sua vita. La diffusione del telegrafo portò le notizie internazionali a molti giornali locali, un fatto che spesso provocò delle lamentele perché dicevano si parla dell'evento che succede in Africa e non si parla della piccola cosa della nostra comunità locale. Ma di fatto i minori costi di trasmissione delle notizie influirono non solo su quello che la gente veniva a sapere ma anche sul suo comportamento. La prima grande ondata di moderna globalizzazione fu in parte dovuta all'abbattimento dei costi di condivisione delle informazioni causati dal telegrafo. Oggi internet, lo vediamo tutti, sta abbassando il costo di trasmissione non solo delle parole ma anche delle immagini, dei video, della voce, dei dati grezzi e di tutto quello che può essere digitalizzato. E si tratta di un cambiamento paragonabile a quello avvenuto col telegrafo, il torchio tipografico di cui accennavo precedentemente. Un altro elemento fondamentale della comunicazione che porta a condivisione è la chiarezza. Un'informazione chiara può circolare con molta più efficacia e accelerare la condivisione della conoscenza ma di fatto può rendere accessibile ad altri il sapere così prodotto perché è la chiara espressione di un'idea che può viaggiare da una persona all'altra e da un gruppo all'altro più facilmente di quanto non farebbe la stessa idea se fosse espressa in modo tale da poter essere capita solamente dai membri di un gruppo specifico. Quindi l'espansione della comunità, la riduzione del costo di condivisione e l'aumento della chiarezza sono tre fattori che rendono la conoscenza più combinabili. Queste tre condizioni sono tutte accentuate da un mezzo che è globale ed economico e che permette di diffondere copie assolutamente perfette di informazioni anche tra gruppi molto numerosi e fisicamente sparpagliati. Gli attuali strumenti tecnologici che permettono di rendere le informazioni globalmente disponibili ai dilettanti a costi marginali nulli rappresentano quindi un fattore molto positivo in realtà per la combinabilità della conoscenza ma naturalmente e questo è il problema finiscono per distruggere posti di lavoro, quantomeno in questa fase. Inoltre queste tre condizioni che abbiamo accennato, comunità, costo e chiarezza, da sole non bastano. C'è infatti una quarta combinazione necessaria a una condivisione reale e questa è la cultura. Se viene a mancare una cultura di base persino la chiarezza non può essere sufficiente. La rete non può fornire tutte le risposte se alla base non esiste una minima cultura condivisa. Per questo, e qui torniamo a noi, diventa assolutamente fondamentale riuscire a strutturare la propria comunità sui social network attraverso un costante lavoro di ricostruzione di un immaginario condiviso. Questo è stato fondamentalmente lo sforzo che la pagina social di XL su Facebook ha compiuto a partire dalla sua nascita oggi. Forgiare una comunità capace di interagire su temi che l'esperienza temporale ha ormai scandito in diverse declinazioni, creando di fatto fidelizzazione ma al tempo stesso non smettendo mai di creare discussione e quindi interazione con i propri utenti. Con queste premesse, e ancora una volta ci riallacciamo a bevi l'acqua, il rapporto con la propria comunità diventa fiduciario e a volte anche bionivoco. Se il social editor non sa una cosa, può anche rivolgersi alla sua comunità che sarà felice di supportarlo. Inoltre è possibile creare una rete di relazioni tali per cui la comunità aiuta se stessa. Un caso importante nella nostra esperienza, per esempio quello dei biglietti dei concerti. Abbiamo visto che i nostri lettori apprezzavano particolarmente i post dedicati ai concerti e a quel punto li abbiamo stimolati a scambiarsi informazioni sulla nostra bacheca. Abbiamo ottenuto risultati straordinari con gente che si scambiava informazioni, biglietti e addirittura che si incontra e divide un viaggio per raggiungere un certo luogo. Riteniamo che questo costituisca a tutti gli effetti una vera e propria apoteosi del social, nel senso che qui da piazza virtuale il social diventa una piazza reale di incontri e di mutuo aiuto. Passando ad altre case history, particolarmente importante è stato anche l'impatto del lancio che XL ha effettuato quest'anno del festival Ai Paura del Buio. Lanciato da una copertina del giornale di carta è diventato un vero e proprio evento virale con una quantità di interazioni assolutamente mai viste. Il primo post in cui si dava l'annuncio ha avuto quasi mille commenti, cosa che ci ha costretto un lavoro di fatto non stop giorno e notte praticamente perché come sapete il presidio del social network prescinde da qualsiasi temporalità, cioè se si vuole un buon livello di relazione appunto, che poi è quello che si diceva appunto, il media è tanto più caldo oggi quanto più è capace di stabilire con il suo lettore un rapporto. Noi essendo una piccola testata pirata dentro il gigantesco mondo di Repubblica siamo riusciti di fatto a instaurare questo rapporto con il nostro lettore, un rapporto appunto fatto di calore perché il giornale era sempre lì presente a rispondere alle domande, alle critiche, alle polemiche che i lettori portavano sul nostro social network. È ovvio che in un tale contesto non si sono riversati nel nostro social soltanto i lettori abituari, ma è stato talmente forte lo sconvolgimento provocato da questa iniziativa che sono arrivati lettori o potenziari o gente anche che ci ha letto soltanto in questa circostanza perché appunto come sapete poi quanto più un post è condiviso tanto più si sparge per il web, quindi di fatto possiamo dire che in quei giorni l'intero mondo indie si è riversato nella pagina social di XL a discutere di questa iniziativa con intenti più o meno nobili, ma di fatto questo ha garantito lo straordinario successo del lancio di questa iniziativa e ha dimostrato che un media che non parla di cose che arrivano solamente da oltreoceano ma con i piedi e le antenne ben piantati nella situazione reale di casa nostra può produrre un livello di interazione dicendola dal punto di vista del web ma un dialogo molto forte detto da un punto di vista che poi è quello che realmente ci interessa da un punto di vista social, nel senso che il nostro modo di interpretare i social network va anche contro tutte le cose che sono state insegnate sui social network e questo ci fa particolarmente piacere nel senso che spesso ai volentieri anche questa scienza che presiede la comunicazione attraverso i social è un tipo di scienza che hanno sviluppato soprattutto le aziende e non i media e questo è un po' il problema, nel senso che probabilmente noi siamo riusciti a fare questa cosa proprio per la nostra struttura di piccola nave pirata all'interno di un grosso sistema, nel senso che a differenza di quello che fanno principalmente i marchi sui social che però hanno tutta un'altra tipologia di intervento, perché il marchio deve affermare un tipo di realtà commerciale, noi invece non dobbiamo affermare, difendere niente se non le nostre scelte di tipo culturale, per cui visto che la nostra battaglia culturale di fatto era legata al cercare di far diventare il circuito indipendente un circuito mainstream o quantomeno di farlo conoscere a più gente possibile, noi non abbiamo alcun timore di rispondere a un lettore anche in maniera forte, nel senso che non ci interessa l'anetichetta che solitamente viene utilizzata e che devono per forza utilizzare i marchi. Noi non siamo un marchio ribadisco, siamo un media, per cui tra l'altro era divertente anche il fatto che molti venissero a criticarci sul nostro social proprio perché non utilizzavamo questa netiquette, ma appunto dimenticando che un media che vuole affermare una sua visione con voce forte e chiara, secondo me se ne deve assolutamente fregare di questa etichetta. L'importante è che porti invece avanti la sua battaglia, facendo naturalmente tesoro delle critiche perché naturalmente, e questo è l'importante apporto ai social network, perché quando la critica non è pretestuosa ma giustificata, aggiunge delle cose, non le toglie. E quindi facendo un po' il sunto di questa case history su cui mi dilungo perché comunque è stata sicuramente una delle più importanti in cui abbiamo assistito in questi anni, credo. Di fatto la tipologia di critica che ci venivano poste erano essenzialmente quelle che ci arrivavano da organizzatori di eventi analoghi o musicisti che non erano stati, che non erano di fatto entrati dentro il concept di questo festival. Ovviamente era impossibile coinvolgere tutti gli eventi, tutti i festival, tutti i musicisti, questo è logico, ma è logico che nel momento in cui un giornale come XL si è mosso facendo una copertina in cui venivano appunto raffigurati in un grande battente una quarantina di personaggi che erano di gruppi musicali ma non solo perché c'erano anche personaggi come Antonio Rezza oppure fumettisti come Recchioni. Insomma abbiamo cercato di abbracciare il più possibile un progetto che rappresentasse comunque l'anima del giornale e questo non voleva dire che naturalmente noi ci saremmo limitati a supportare il progetto Ai Paura del Buio, semplicemente Ai Paura del Buio con quello che è stato il suo frontman Manuel Agnelli è il progetto che ci si è presentato dicendo noi facciamo questa cosa, volete supportarci e noi l'abbiamo fatto esattamente come in questo momento, come diceva Michele, siamo il media partner di questo festival di incontri perché crediamo che queste cose abbiano un valore tutto qua. Quindi poi ci sono le inevitabili dietrologie internetiane che vedono misteriosi finanziamenti, progetti, guadagni, in realtà non c'è mai stato nulla di tutto questo se non appunto la volontà di far conoscere a un mondo che è quello dei grandi media che ancora adesso non se ne è peraltro più di tanto accorto, di far conoscere quelle realtà che nascono dal basso appunto e che rappresentano di fatto la creatività giovanile in questi campi. Per cui il nostro intervento a livello social è stato nell'invitare tutti i festival che volessero avere una rappresentatività a portarci un altro progetto di questo tipo e saremmo stati lieti di fatto di portare avanti, qualora ritenessimo ovviamente che avessero un valore, anche iniziative di quel tipo. Diciamo che appunto questo tipo di interazione secondo me è veramente il livello ideale dell'interazione ed è veramente tornando appunto al tipo di calore anche nella polemica non fine a se stesso, tant'è che poi questa iniziativa ha smosso di fatto le acque, ha smosso le acque in maniera talmente vivace da arrivare persino per la prima volta a un livello istituzionale e a portare un ministro, l'ex ministro della cultura Massimo Brai che probabilmente conoscete perché se non sbaglio è pugliese, a manifestare il suo appoggio all'iniziativa. Un appoggio che secondo noi non è stato di forma ma di sostanza tanto che è andato avanti con una serie di iniziative strutturate che hanno anche portato alla definizione di nuove leggi come quella che consente di utilizzare una semplice autocertificazione da consegnare in comune per annullare l'iter di licenze e organizzazioni oggi necessario per organizzare un concerto con meno 200 di spettatori e dentro le ore 24. Un piccolo passo forse ma comunque di grande importanza perché segnala l'attenzione per la prima volta della politica nei confronti della musica rock indipendente. Le iniziative poi a questo riguardo si sono di fatto moltiplicate nel senso che a Firenze per esempio il circuito nazionale Kipon che raccoglie più di 200 locali in tutta Italia ha fatto il punto della situazione sulla musica live e anche da lì appunto sono partite e stanno partendo una serie di iniziative a riguardo per cercare appunto di tutelare i piccoli locali che di fatto però costituiscono quel circuito che permette alla musica indipendente di riuscire a sopravvivere. Questa tematica poi proprio qui a Bari al Medimex è stata ripresa ospitando il convegno di più musica live organizzato da Stefano Boeri e da Tommaso Sacchi e ancora appunto andrà avanti questa cosa perché è previsto un ulteriore appuntamento a cui a mia volta parteciperò al Salone del Libro di Torino per cercare di non vanificare questa esperienza con il cambio di ministro e con la consapevolezza di fatto che probabilmente da Franceschini che è il nuovo ministro sarà più difficile da farsi ascoltare ma proprio per questo motivo bisogna cercare di continuare a perseverare perché è veramente la primissima volta in Italia che si è iniziato a fare qualcosa, che la politica ha iniziato a guardare a questo mondo che di fatto è un mondo che nei paesi anglosassoni, sapete meglio di me, viene tutelato, aiutato in mille forme tanto per dirne una che riguarda gruppi di ultranicchia, i Karen 93 guidati da David Tibbet che con l'avvento delle nuove tecnologie perché le nuove tecnologie come sapete non creano problemi solamente ai giornali ma hanno creato problemi ben peggiori alla musica soprattutto ai gruppi indipendenti e di nicchia che prima vivevano con la vendita a livello internazionale i Karen 93 sono un gruppo di culto però ci spiegava il suo leader David Tibbet che abbiamo conosciuto e che ha curato tra l'altro per XL una delle cose che ci divertiva molto fare perché erano quei piccoli fiori all'occhiello di cui pochi magari si rendevano conto ma che erano per noi molto sfiziosi perché per due anni e mezzo ha tradotto dall'aramaico un pezzo di Vangeli Apocrifi ecco questo tipo di gruppi di culto in Inghilterra sono tutelati lui che ormai era ridotto quasi all'indigenza per il fatto che la riproducibilità tecnica del mezzo portata dalle nuove tecnologie quindi dallo scaricamento pirata ha ridotto consistentemente i suoi fattori di entrata la vendita dei dischi lo stato inglese si è fatto carico di acquistare tutti gli originali dei suoi scritti e dei suoi lavori per tenerne memoria in un luogo apposito e come per lui così per tanti altri musicisti di questo tipo io stesso vi dico che ho nel corso degli anni e del lavoro avuto la possibilità di avere delle collezioni più ampie dedicate alla musica indipendente fatta anche non soltanto di cd, di dischi ma anche di pubblicazioni di libri, di riviste più o meno underground veramente ho un grande dispiacere nel pensare che queste cose oggi non potranno più essere tramandate perché a nessuno questa cosa interessa e da questo punto di vista invece parlando ieri con Michele sono molto contento che proprio qui a Bari un'emeroteca per esempio abbia fatto un'opera analoga a quella di Tibet con un collega Luca De Gennaro di cui ha rilevato tutta la collezione di periodici che potete trovare in un'emeroteca destinata alla musica qui a Bari ecco questa attenzione che negli altri paesi c'è a livello istituzionale dicevo prima in Italia non c'è mai stata e invece per la prima volta con il ministro Brai siamo riusciti a farci ascoltare e una serie, proprio quando alcune delle cose stavano iniziando ad avere un'iter perché poi c'erano diverse altre proposte in atto e in discussione e appunto continueremo di fatto a cercare di portarlo avanti però il cambio di governo ha cambiato tutte le carte in tavola e quindi bisognerà ricominciare da capo lo faremo, è importante che da parte di tutti appunto si capisca che c'è una volontà appunto di cercare di fare le cose in meglio si può sbagliare ma di fatto quanto più le persone parteciperanno anche a livello di social, alle iniziative di cui puntualmente vi interemo informati tanto più ci sarà la possibilità di fare pressione perché sembra che questa generazione sia invisibile rispetto ai grandi media ma non parlo soltanto della musica, parlo appunto anche del fumetto per esempio di cui XL è da sempre un asseratore nel senso che adesso tutti parlano, alcuni fenomeni riescono a bucare zero calcare, il primo giornale su cui ha pubblicato di portata nazionale è stata per l'appunto XL in realtà anche uno scrittore come Roberto Saviano è stato ospitato da XL per la prima volta quando ancora nessuno lo conosceva lo avevamo mandato a intervistare i Cosang un gruppo di pop a Napoli, a Marianella allora ovviamente nessuno lo conosceva per cui poteva girare tranquillamente il libro di Saviano quando uscì un anno dopo lo presentammo noi a Roma per la prima volta poi Saviano è diventato quello che è diventato ecco, l'importante quindi in Italia è che ci siano dei luoghi in cui questo tipo di cultura che viene dal basso possa trovare una sua rappresentanza il problema della divisione di cui si parlava prima di questa parcellizzazione della cultura che da un lato è benvenuta ma dall'altro lato ovviamente finisce per essere dispersiva è proprio questo il fatto che purtroppo in questa fase viene a mancare un modello di business per cui l'online non è sufficiente a garantire lo stesso livello che al momento garantiva la carta stampata al tempo stesso la carta stampata con la mancanza della pubblicità si trova a vivere questo tipo di problematica quello che comunque a noi di fatto interessa è intervenire sostanzialmente io ho citato questa esperienza perché oltre a rappresentare di fatto la punta più alta di coinvolgimento tra giornalismo e social ha secondo me dimostrato che oggi forse il compito di un media può anche essere quello di diventare a tutti gli effetti un soggetto attivo cioè di essere altro rispetto a quello che il giornalismo tradizionalmente inteso considera un media può diventare un soggetto attivo che porta avanti con determinazioni le battaglie in cui crede noi dagli esordi appunto abbiamo sposato credo in maniera chiara evidente la causa della cultura indipendente italiana ovvero di quella che riteniamo essere come dicevo prima la cultura che nasce dal basso la cultura vera che nasce da un'urgenza di espressione creativa e che davvero in questo paese pochi supportano abbiamo cercato e continueremo a cercare di farla conoscere attraverso i nostri mezzi che oggi sono diventati digitali ma appunto non per questo meno potenti nel senso che come anche Pevilacqua diceva di fatto forse non c'è il modello economico ma la realtà è che in realtà si raggiungono una quantità di persone molto più ampia rispetto a quelle che raggiungevano i media tradizionali quindi noi continueremo attraverso il nostro sito attraverso i nostri canali social a portare avanti questo discorso consapevoli che in realtà la sfida verso il futuro è molto difficile ma siamo molto determinati nell'affrontarla perché siamo e restiamo spinti da una forte idealità vogliamo far conoscere di fatto la cultura giovane italiana e fare in modo che possa contribuire al cambio generazionale in questo paese se rinunciamo alle forze espressive più giovani e fresche infatti non c'è dubbio perdiamo tutto e con questo chiudo la prima parte allora la prima domanda che ti volevo far arrivare è quella attraverso twitter di un minollo si chiama un minollo la comunicazione virale o l'estetica di una copertina possono rivitalizzare un progetto editoriale se si come ma in realtà appunto già McLuhan diceva il mezzo è un messaggio io penso che la grafica non sia alto dal giornalismo la grafica è giornalismo appunto in realtà secondo me se una co cioè un giornale di carta online eccetera si presenta con una brutta grafica una grafica antiquata comunque finisce per squalificare purtroppo il contenuto stesso in questo mi differenzio rispetto a quello che diceva bevi l'acqua nel senso che non ritengo la veste un orpello inutile ritengo che una grafica senza contenuto no la grafica è di per sé un contenuto quindi l'insieme dei contenuti rappresenta quello che un giornale è oggi sostanzialmente e ricollegandomi anche appunto al cambiamento che sta avvenendo in questi giorni a Repubblica credo che sia effettivamente una mossa estremamente importante che va a ridefinire dal mio punto di vista in maniera molto positiva un un certo tipo di mondo è un cambio epocale in realtà quello che sta avvenendo in questi giorni a Repubblica che ci sta dicendo una cosa molto chiara per l'appunto e cioè che la giornata la potete trovare online le notizie vengono messe tutte lì non vengono tenute come poteva avvenire precedentemente per dare più lustro alla parte stampata ma quando si sanno vengono date in tempo reale mentre la parte stampata diventa di fatto un approfondimento e quindi un approfondimento che mette un gioco un livello di qualità sempre più alto e in questo infatti sono d'accordissimo con il collega la sfida futura si gioca sulla qualità sicuramente appunto la nostra visione va in quella direzione cioè l'online sempre più generalista capace di arrivare a tutti e di declinare la giornata in maniera veloce e invece il quotidiano diventa già il luogo dell'approfondimento dopodiché appunto ci sono parti del giornale che diventano come dire un approfondimento ancora più accurato come per esempio nel nostro caso la parte della domenica di Repubblica di cui tra l'altro in parte mi occupo oltre a XL per cui la strada tracciata è sicuramente questa con tutti gli errori e che si possono fare in un cambiamento che avviene in velocità perché potete immaginare cosa vuol dire fare un cambiamento nel ritmo già veloce di un quotidiano quindi ovviamente quello che vedete in questi giorni non è perfetto ma rappresenta dal mio punto di vista un grandissimo passo avanti appunto proprio perché declina un'eleganza maggiore una pulizia maggiore un rigore maggiore ha una qualità maggiore anche dei contenuti se ci sono delle domande vi prego di prenotarvi potete dirlo anche ad Antonella Di Marzio e nel frattempo volevo continuare proprio questo discorso sui contenuti perché quella che la mia sensazione è che in Italia si faccia molto fatica a pensare ai contenuti in funzione del media sui quali devono apparire ne parlava stamattina anche Rocca ma c'è stata credo poca ricerca e soprattutto poca strutturazione da parte soprattutto dei media maggiori delle più grandi testate nel riorganizzarsi internamente per ripensare appunto i contenuti magari che devono andare sul web i contenuti che devono andare sul cartaceo i contenuti che devono far parte di un'app e così via ho visto delle app molto interessanti nel corso del tempo Repubblica ne ha sviluppate alcune pensate appositamente per esempio per iPad e mi è sembrato che là ci fosse già un lavoro per appunto ripensare i contenuti secondo te a che punto siamo e su che cosa si deve lavorare soprattutto è un problema strutturale è un problema di formazione dei giornalisti che lavorano nelle redazioni perché ancora Italia non riesce ad utilizzare i media in maniera così consapevole perché è un processo lungo e complesso è inutile appunto nasconderselo nel senso lo sapete tutti di fatto entrare in un giornale è difficilissimo oggi per un giovane noi stessi a Repubblica ma tutti i giornali lo stanno vivendo in questo momento mentre da un lato la legge dice che devi andare in pensione 65 anni dall'altro lato le aziende cercano di prepensionare il più velocemente possibile per cercare di creare un cambio generazionale in parte perché la tecnologia di fatto e l'aumento dei costi più che l'aumento dei costi la perdita della pubblicità richiede che ci siano meno persone a fare un determinato lavoro quindi in tutto questo in strutture già consolidate è estremamente difficile riuscire a portare innovazione come diceva appunto bevi l'acqua sono avvantaggiati quelli che partono adesso che partono ex novo da una parte sono avvantaggiati perché appunto non hanno questa zavorra strutturale possono partire con giovani portatori magari nativi digitali portatori di una cultura più moderna dall'altro lato naturalmente forse è qui che bisognerebbe interrogarsi perché anche l'avventura di lettera 99 giusto? pagina 99 lo racconta insomma in Italia se vai in edicola e ti confronti con una struttura della distribuzione che francamente non è informatizzata non è moderna difficilmente riesci ad avere quella visibilità necessaria per portare avanti la tua avventura e al tempo stesso essere online in questa fase di trapasso non è sufficiente perché la pubblicità comunque privilegia ancora la carta quindi è complicato oggettivamente noi come il Corriere della Sera come il Sole 24 Ore abbiamo appunto nelle redazioni persone che non sono nativi digitali e che quindi fanno estremamente fatica a capire come lavorare sul digitale quindi questo trapasso nei grandi media non potrà che essere estremamente lento inevitabilmente strutturalmente dopodiché magari ci potranno essere delle parti che potranno funzionare in maniera più veloce però il corpus centrale dei media tradizionali è fatto in questa maniera e del resto nessuno immagino vorrebbe mandare a casa tutti i giornalisti non nativi digitali perché comunque in realtà hanno da portare dalla loro hanno tutta una parte di esperienza che invece i giovani magari non hanno di accesso a fonti importanti che i giovani non hanno dall'altra parte cioè da quella dei nativi digitali se vogliamo il pericolo può essere che si è abituati a stare nella propria stanzetta davanti al computer e quindi a vedere il mondo soltanto attraverso quel filtro mentre il giornalista a vecchio stampo faceva appunto il famoso lavoro per cui consumava le scarpe noi abbiamo degli illustrissimi esempi verrà prepensionato uno dei più grandi giornalisti che si è occupato di antimafia Attilio Bolzoni ma insomma non c'è un giovane che ha il suo livello di esperienza il suo livello di contatti ha dedicato una vita a questo quindi semmai ci potrà essere un'integrazione tra la sua esperienza e un giovane che magari lo aiuta a capire come i big data possono aggiungere altro a quello che è stato il suo lavoro sul campo per 30-40 anni insomma quindi integrazione ecco questa è probabilmente la formula poi naturalmente il tempo porterà inevitabilmente al ricambio generazionale e quando avverrà si sarà il problema intanto dovremo per forza di cose a meno che invece ci siano delle forze giovani talmente visionarie talmente intelligenti talmente capaci di trovare nuove formule nuovi modelli di business da abbattere i dinosauri per l'appunto cioè riusciranno magari a sopravvivere meglio proprio perché maggiormente strutturati rispetto alla glaciazione che sta arrivando e che colpirà i dinosauri e che permetterà invece a nuove specie meglio attrezzate di sopravvivere nel futuro Allora un'altra domanda che arrivava da Twitter riguarda un po' l'utilizzo dei social media la domanda ovviamente essendo in 140 battute è molto sintetica però un Twitter journalism è possibile? Il social al servizio dell'informazione è possibile? La domanda è di Giulia Murolo Ma secondo me assolutamente sì anche se poi a differenza di molti miei colleghi io sono uno di quelli che non ama Twitter nel senso che mi rendo conto dell'importanza che Twitter ha avuto in tutta una serie di circostanze non posso fare a meno di pensare che di fatto abbia più successo tra noi giornalisti perché gratifica l'ego del giornalista stesso però dal mio punto di vista invece Facebook che è un modello di social più popolare è più funzionale infinitamente più funzionale cioè su Facebook puoi fare tutto quello che puoi fare su Twitter senza avere il limite di caratteri e con la possibilità di una multimedialità più spinta cioè se vuoi puoi aggiungere foto filmati è vero adesso anche su Twitter però di fatto dal mio punto di vista Facebook rappresenta un'esperienza più completa è in realtà più popolare più trasversale in realtà in Italia moltissima gente non è su Twitter e quindi la raggiungi molto meglio attraverso Facebook tant'è che noi a livello di social siamo sì presenti su Twitter ma lo siamo come reindirizzamento dei post di Facebook continuando sempre su Twitter c'è la domanda di Mino Pica dato che tu sei stato spesso in Puglia soprattutto nell'ultimo periodo e l'hai conosciuta un po' di più quali sono le impressioni sulla scena locale se ce le hai e sul fermento di questi anni in cui è animata rispetto al passato non so se la domanda è prettamente di piano editoriale probabilmente un po' in generale sulla Puglia se poi ne puoi parlare anche dal punto di vista editoriale tanto meglio ma assolutamente sì nel senso che appunto noi abbiamo per tre anni fatto delle compilation che insieme a Puglia Sounds che cercavano di dare una rappresentazione il più possibile compiuta di quello che stava che sta succedendo in Puglia nel senso che da una rosa di artisti propostici da Puglia Sounds redazionalmente abbiamo operato delle scelte che questa era la richiesta che ci veniva da Puglia Sounds e che noi abbiamo ottemperato potessero rappresentare tutta la scena quindi di fatto abbiamo sempre lavorato molto su queste compilation nel senso che noi per vocazione siamo spinti alla modernità e quindi quello che più ci interessa è il mondo della rock piuttosto che dell'elettronica e quindi siamo stati particolarmente attenti a queste scene però devo dire che abbiamo anche imparato molto in questi anni nel senso che c'è una parte di giovani che considera appunto la tanto vituperata pizzica o la parte folk insomma noi questa cosa l'abbiamo in realtà scoperta e ne abbiamo scoperto delle forme molto molto interessanti e quindi quelle che dal punto di vista qualitativo ci hanno interessato le abbiamo comunque ospitate all'interno delle compilation che siamo andati a realizzare e siamo convinti in questo modo di aver potuto dare a un pubblico che è un pubblico nazionale un'idea a 360 gradi della Puglia quindi capace di raccontare anche sia la parte tra virgolette tradizionale sia quella che cercava di mediare appunto tra folk ed elettronica perché ci sono casi anche di questo tipo e poi ovviamente abbiamo lavorato molto sulla parte invece che più amiamo che è quella del mondo del rock inteso in senso lato vuol dire anche ovviamente reggae dub ed intorni di cui la Puglia ha alcuni tra i massimi esponenti e anche elettronica perché anche in questo caso dalla Puglia stanno venendo fuori alcuni artisti davvero interessanti quindi noi ci siamo sempre molto appassionati nel fare queste compilation e ci abbiamo lavorato anche cercando proprio con accuratezza di costruire un percorso dei brani che avesse appunto una sua struttura una sua logica infatti li selezionavamo mettendoli uno dopo l'altro cambiando la disposizione ogni volta per cercare di creare proprio questo percorso di introduzione a questi mondi che avvenisse per gradi e per temi se andate a recuperare queste compilation vedete che funziona proprio in questa maniera qua per l'appunto e quindi è stata una sfida interessante simile a quella che abbiamo poi fatto su altri mondi su altri fronti lo stesso divertimento per esempio c'è stato nell'andare a fare una compilation quando abbiamo deciso di dedicare una copertina a Rob Zombie e abbiamo dedicato un numero monografico di XL al mondo horror nel cinema nella musica e siamo andati a chiedere a un editore romano che ha ospitato tutta la storia del cinema di genere tutta la storia musicale del cinema di genere e abbiamo fatto questa compilation che abbiamo chiamato Terror Dome in cui abbiamo messo da profondo rosso a Suspiria a tutti i film di quell'immaginario e siamo molto contenti perché vedo che adesso già su ebay questa compilation è ricercatissima perché rappresenta veramente una piccola chicca ricercata anche a livello internazionale per l'appunto poi c'è la domanda che penso diventerà il leitmotiv di tutto il festival cioè Samantha Zagaria cosa tocca fare a un giovane giornalista pubblicista ora buttarsi direttamente sul digitale ma questa appunto è la domanda difficilissima quello che dicevo io prima non lo so io veramente sentirei penso che proverei a mettere insieme appunto una sorta di start up cercherei di individuare una passione anche al di là di quello che c'è normalmente e cercherei di diventare il media più esauriente esistente sulla faccia della terra o quantomeno in Italia legata a quel tipo di mondo il futuro ci dicono è quello dei siti verticali il futuro è quello della specializzazione io dico quello che farei io che appunto ho sempre messo la passione prima di tutto io farei questo cioè se sono appassionato per esempio tanto per citare una cosa che ho citato prima se sono appassionato di fumetto per esempio cercherei di creare il più importante sito più social annesso in Italia dedicato al mondo del fumetto in modo tale di diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere e credo che l'estrema specializzazione possa essere l'unica cosa che paga non lo sarà forse nell'immediato però penso che questa cosa qua possa davvero funzionare e penso l'esperienza poi ce lo insegna cioè i grandi giornali i grandi media se tu diventi quella cosa lì sono loro poi che ti vengono a cercare per proporti di diventare un loro blogger di diventare un blogger e quindi ti pagano per diventare quella cosa lì insomma oppure gli investitori pubblicitari cioè lo vediamo nei segmenti dove questa cosa funziona meglio che sono quelli della moda la moda che è in Italia un settore molto forte insomma le sfilate non è il mio campo però so che oggi come oggi i blogger di moda più famosi sia in Italia che a livello internazionale sono nei primi posti assieme ai direttori delle più prestigiose testate quindi secondo me questo è quello che bisogna perseguire piuttosto che cercare genericamente di fare giornalista di andare appunto a lavorare per un media tradizionale poi come diciamo ieri sera una serie di siti quando sono nati proprio dalla passione hanno iniziato a sviluppare contenuti che non avendo la problematicità della lunghezza erano dei veri e propri dossier lunghissimi con una specializzazione estrema nella scrittura parlavamo per esempio di sentire ascoltare che poi ha cambiato un po' modalità di redazione Giacomo De Tommaso scrive cosa pensa e come spiega l'ascesa nell'era di Twitter del long form journalism che a mio parere è qualcosa che è sempre stato legato anzi al web in maniera ancora più imprescindibile del tweet però la domanda è questa cosa pensa e come spiega l'ascesa del long form journalism ma intanto sono felicissimo di questa affermazione perché molto semplicemente internet è tutto nel senso si può passare dall'estrema sintesi di Twitter ma poi ognuno di noi credo rispetto agli argomenti su cui è un interesse maggiore non sono Twitter e Facebook che gli danno l'esaustività o te la cerchi ancora appunto nel media tradizionale e quindi da questo punto di vista il fenomeno di cui dicevamo prima mi occupo del domenicale di Repubblica la domenica è un giorno in cui hai più tempo per leggere Repubblica ospita un'ampia sezione in cui ritrovi quelli che un po' erano i temi di XL in qualche misura cioè lo spettacolo il cinema l'intervista appunto lunga di cento righe ecco e lo stesso voglio dire può succedere online io stesso personalmente siccome più o meno l'arrivo in Italia di un gruppo che io amo molto i My Bloody Valentine coincideva con il lancio del nuovo sito di XL lo scorso anno per quell'occasione ho fatto una recensione del concerto che andava oltre ogni ragionevolezza cioè ho fatto una recensione di 40.000 battute del concerto dei My Bloody Valentine scientemente proprio per sottolineare quello che come avete capito mi piace cercare di provare l'improponibile appunto quindi si ritiene che una recensione debba essere veloce no in questo caso invece vi abbiamo proposto una recensione che andava oltre ogni ragionevolezza oltre ogni legge dell'online eccetera eccetera penso che l'online possa essere divertente affascinante appassionante proprio perché dà la possibilità di provare tutte queste cose e uno le prova e vede poi quella che funziona insomma e da lì poi si può cercare di creare una nuova avventura di sicuro purtroppo c'è una cosa che non ci si arricchisce in questa fase quanto meno con queste cose ci vuole molta dedizione molta dedizione però insomma credo che ci possano essere a lungo termine anche delle soddisfazioni nel portare avanti queste cose un'altra domanda dato che il festival appunto è incentrato in quattro giornate tematiche due giornate sono dedicate rispettivamente alla musica e al cinema qual è l'elemento appunto legato alla multimedialità che può rendere il web ancora più funzionale a raccontare queste due forme d'arte e poi magari nella seconda parte della domanda vedere quali possono essere gli strumenti anche come la realtà aumentata magari che possono essere utilizzati però la prima parte quali sono le specificità sulla musica nell'implementazione dello streaming nell'implementazione del podcast delle nuove forme di fruizione nuove ma ormai ultracontemporane della radiofonia quindi ampliare anche la tua parte seminariale proprio su questo su questo aspetto ma questo sarà appunto il tema e si ricollega in realtà con quello che dicevamo prima secondo me nel senso che oggi l'avvento di piattaforme io tra l'altro appunto ho tenuto un incontro proprio al Medimex con Deezer in realtà aveva rivoluto anche Spotify ma non ci siamo riusciti però di fatto la prossima grossa rivoluzione che sta arrivando è questa per il momento riguarda probabilmente il pubblico più giovane che appunto ama la musica e utilizza la musica ma a breve con l'arrivo di Netflix in Italia riguarderà anche il cinema e comporterà un'ulteriore rivoluzione epocale che purtroppo temo porterà ulteriori problemi al mondo del cinema delle sale nel senso cinematografiche anche lì sono state salvate in qualche modo dal 3D ma insomma però bisogna sempre essere ottimisti perché magari le risposte arriveranno anche lì da un fronte totalmente inaspettato di fatto Netflix comporterà il fatto che con un abbonamento tutti potranno in casa propria vedersi i film adesso non so dipenderà da come l'Italia porterà avanti la cosa però di fatto dovrebbe esserci la possibilità di vedere addirittura in contemporanea in prima se verrà fatta questa cosa è ovvio che il cinema non lo so quanto potrà se uno può vedersi l'ultimo Capitano America dal suo televisore 3D invece che in sala probabilmente ci sarà una consistente parte che per vari motivi che vanno dalla logistica alla maggiore comodità preferirà vederselo in casa quindi il cinema dovrà offrire qualcos'altro ancora per essere un punto di riferimento rispetto alla televisione detto questo sia per quanto riguarda il cinema che la musica questa estrema fruibilità secondo me paradossalmente riporterà in auge una figura che sta scomparendo in realtà che è quella del chiamiamolo critico chiamiamolo in qualsiasi altro modo però di fatto esperti della materia che possano dare a un pubblico generico delle indicazioni su ciò che vanno a vedere o ciò che vanno a ascoltare vedo che in realtà anche Deezer e Spotify vanno orientandosi su questo fronte nel senso che tutti voi che avete fatto un'esperienza con questi siti di streaming avete visto che c'è un'opportunità fantastica di avere tutta la musica del mondo a vostra disposizione e c'è un algoritmo poi che vi indirizza sulle cose che forse potreste apprezzare se vi piace una determinata cosa però credo che a lungo andare questo non sia sufficiente e che questo tipo di esperienzialità sia molto superficiale e non del tutto gratificante credo che per alcuni ci sarà la necessità invece di capire meglio quello che vanno a ascoltare o a vedere e quindi di verticalizzare per l'appunto perché adesso questo tipo di piattaforme comportano una sorta di orizzontalità e io lo vedo appunto in chi fa questo lavoro nelle web zin che magari ha un'idea veramente molto orizzontale della musica e si perde tutte le specificità invece storiche quindi verticali di questi mondi quindi la storiografia la critica torneranno probabilmente ad avere una parte importante di indirizzo secondo me poi c'è un altro tema ulteriore soprattutto per quanto riguarda il mondo della musica e questo in effetti allo stato attuale secondo me costituisce un problema nel senso che si va perdendo quella che era l'esperienza sul campo del giornalismo parlando nello specifico del giornalismo musicale quella che magari chi di voi ha visto il film Almost Famous capisce immediatamente cioè quello che il giornalista musicale faceva con l'artista che consisteva di fatto nell'esperire la realtà dell'artista il mondo dell'artista e raccontarla appunto al mondo dei fan degli ascoltatori uno può dire oggi è l'artista medesimo che la racconta quindi non ce n'è più bisogno però in realtà ovviamente l'artista non è imparziale cioè racconta giustamente inevitabilmente di sé quello che vuole raccontare e senza contare che spesso lo stesso artista non è del tutto consapevole paradossalmente di quello che rappresenta questo sia nel bene che nel male sia perché magari ha un ego talmente forte che è convinto di essere il più grande musicista del mondo sia perché invece è convinto di valere molto meno di quello che vale quindi diciamo che l'esperienza sul campo che una volta il giornalista musicale faceva che io per esempio ho fatto perché i giornali per cui lavoravo me ne davano l'opportunità avevamo la possibilità di seguire i musicisti in tournée all'inizio a spese nostre a spese del giornale quindi garantendo una maggiore obiettività poi a poco a poco purtroppo a spese della casa discografica ma comunque ancora questa cosa reggeva se vi ricordate appunto quello che raccontava Almost Famous lì il rapporto col giornalista era talmente serio che c'era anche la figura del verificatore che verificava anche il lavoro del giornalista quindi purtroppo ormai tutte queste cose si sono perse però in un grande racconto veramente secondo me veniva fuori l'anima di un artista e purtroppo racconti di questo tipo oggi non esistono più si trovano sempre meno cioè sarebbe interessante raccontare dall'interno i grandi gruppi rock ma persino un fenomeno sociale sociologico come Lady Gaga ma oggi invece purtroppo si è creata questa cortina di addetti stampa di cose che tengono molto molto lontano i giornalisti e poi i giornali non hanno appunto più i mezzi per pagare questo lavoro che una volta si faceva e quindi tornando all'esperienza del critico il pericolo è una tra virgolette nerdizzazione del critico nulla contro i nerd nel senso che va benissimo che ci sia questa cosa però in realtà secondo me la figura completa è quella che accanto alla professionalità la competenza mette insieme l'esperienza sul campo e questa potrebbe non esserci più insomma in futuro non so se ci sono delle domande vedevo Pino Bruno anche scotteva la testa una domanda che dice questo nuovo rivolamento a ricompra molti dicono che avrà un impatto devastante sui giornalisti di Italia ma insomma non lo so veramente io al festival di giornalismo di Perugia ho avuto la fortuna di intervistare uno di questi personaggi che è stato di provenienza è un hacker sostanzialmente e lo dichiara e però in un paese come gli Stati Uniti poi di fatto è stato l'artefice uno degli artefici della vittoria di Obama io che vendo comunque dal mondo degli indipendenti per formazione culturale penso che in realtà quanto più l'informazione è libera tanto meglio è e quindi non posso che vedere male questo tipo di discorso infatti anche quando interrogavo appunto questo personaggio su Bradley Manning o sui casi più recenti di Whistler Blowing Whistler Blowers che sono appunto quei cittadini che comunque ritengono l'etica superiore alla ragione di Stato e quindi hanno rivelato come nel caso Wikileaks anche segreti sensibili beh insomma l'hacker etico dal mio punto di vista è un hacker etico cioè una persona che ha un valore fondamentale che dal mio punto di vista non dovrebbe andare in prigione ma dovrebbe essere premiato quindi secondo me il giornalismo non deve porsi nessun tipo di confine deve essere libero a 360 gradi a tutti gli effetti per cui bisogna cercare di lottare il più possibile per fare in modo che così possa essere che così possa continuare a essere chiaro che le ragioni di Stato portano in tutto il mondo da altre parti lo vediamo in Turchia dove addirittura stanno cercando di impedire a Twitter e a Facebook e a social media a YouTube penso che comunque sia una lotta persa alla fine per i governi penso che la tecnologia da questo punto invece ci aiuti e sia estremamente importante io ti vorrei fare invece due domande correlate che dovrebbero essere inserite nella giornata di domani però avendoti qui mi sembra utilissimo la prima domanda è proprio anche relativa al regolamento Agicom che ovviamente regolamenta soprattutto in maniera sul diritto d'autore sulla tutela del diritto d'autore ti sembra che negli ultimi anni si sia fatto un passo in avanti nella consapevolezza di come si debba usare la rete in funzione dell'ascolto della musica della fruizione dei video cioè qualche anno fa sembrava quasi che scaricare illegalmente fosse quasi un elemento di forte democrazia quindi c'è stato un passo in avanti nella consapevolezza di coloro che utilizzano la rete che il download illegale è illegale per antonomasia la prima cosa ma in realtà io penso che è impossibile fermare il download illegale ma in realtà si è fermato quando è che si è fermato quando razionalmente appunto si è capito che quella cosa lì non poteva funzionare perché non si può limitare la tecnologia e quindi sono nate le piattaforme di cui parlavo prima se ci sono Deezer e Spotify e io ho accesso a tutta la musica del mondo pagando 9,99 euro al mese non scarico più non ne ho più bisogno cioè di fatto è accettabile più che accettabile quel tipo di prezzo c'è un altro tipo di problema però che pone la nascita di queste piattaforme che è appunto il futuro dei giovani artisti in realtà e anche la ricaduta occupazionale se vogliamo però siamo sempre lì la tecnologia non si può fermare nessuno è mai riuscito a fermarla quindi facciamo un esempio per quanto riguarda l'industria discografica quando ho iniziato io le corporation discografiche penso appunto io sono di Milano la Polygram la EMI avevano sedi faraoniche in pieno centro era una cosa incredibile adesso Deezer sapete quante persone ha assunte a fronte delle 200 e passa che poteva avere la Polygram ai tempi bene Deezer è in Italia se non è cambiato niente appunto dal Medimex con 4 persone 4 poi naturalmente ci sono altre cose date in outsourcing però di fatto ci sono 4 persone in Italia che ci danno tutto lo streaming digitale di cui abbiamo bisogno naturalmente poi il resto del tema riguarda e questo è un tema che sollevava anche David Byrne nel suo bellissimo libro recentemente uscito anche in Italia se comunque è irrisorio anche per gli artisti consolidati quello che si guadagna da questi servizi di streaming di fatto rende impossibile vivere ai giovani artisti che di fatto poi per la quantità perché l'altro problema è la quantità di giovani artisti che oggi accedono fare un cd alla portata di chiunque quindi tu fai il tuo cd oppure neanche non c'è bisogno neanche del cd ormai è roba passata cioè metti su soundcloud o su altri siti il disco quello che tu hai realizzato però non ci vivi questo è il problema oppure ma sono casi veramente rarissimi riesci a fare una cosa che riesci a godere di un passaporto cioè ci sono anche questi però inutile illudersi in questa coda lunga la maggior parte della gente viene ammazzata quindi anche lì siamo in questa fase di transizione in cui per gli artisti le cose sono estremamente difficili quindi non lo so veramente soltanto il futuro ci potrà dire che cosa potrà succedere in questi campi credo che per la musica sia ancora più complicato che per il resto perché veramente da un lato non basta più il live da un lato non c'è più quella forza promozionale della casa discografica che credeva in te e quindi probabilmente ci sono comunque artisti che riescono a interpretare lo zeitgeist del tempo lo spirito del tempo era stato così per i Nirvana per esempio io credo che comunque se ci fosse un gruppo capace realmente di interpretare un certo tipo di urgenza verrebbe fuori anche oggi comunque quindi sono ottimista anche su questo versante un'ultima domanda mia parlavamo prima del fatto che questa può diventare nuovamente un'età d'oro per i critici ma i critici stessi il valore della musica non è stato nel tempo depauperato dagli stessi agenti di promozione dagli stessi distributori che attraverso la dematerializzazione dell'oggetto fisico la musica non è più veicolata attraverso un oggetto fisico né un vinile né un cd ma nel 90% dei casi ormai è dematerializzata e circola attraverso un mp3 ha perso anche un elemento che era fondamentale cioè quello appunto della materia che era una copertina una copertina magari di 12 pollici era un disco che aveva un peso di 180 grammi eccetera eccetera ecco dividere in maniera così netta la parte di ascolto dalla parte materiale che è tutta la fenomenologia tutta la parte proprio iconografica non credi che sia già una modalità per rendere il lavoro del critico incompleto dato che buona parte dei critici di oggi è costretta a misurarsi esclusivamente sull'ascolto dell'mp3 magari a un bitrate basso quindi con una qualità audio bassa certe volte ma anche qui insomma staremo a vedere vedremo per esempio se questa nuova piattaforma che ha lanciato Nilyang che si chiama Pono e che garantisce un livello qualitativo ottimo riuscirà ad avere fortuna è supportato da molti artisti per cui chissà anche se in teoria non c'è lo spazio per un nuovo contendente però sì indubbiamente quello che dici è vero d'altro canto anche qui come dicevo prima si vanno formando nicchie e sicuramente quello di chi vorrà approfondire il discorso musicale sarà una nicchia una nicchia che non a caso è ritornata già adesso al vinile che sembrava invece un qualcosa di morto per molti anni il vinile era considerato la serie B non dagli audiofili ma dal pubblico di massa ricordo io che ho iniziato proprio in quel periodo che le case discografiche davano al giornalista della grossa testata il cd e invece a quella della piccola testata davano il vecchio vinile perché non valeva nulla non valeva più nulla in teoria e invece oggi siamo arrivati al contrario no? tant'è che tutti ristampano il vinile 180 grammi eccetera eccetera sia nel catalogo ma anche i gruppi di qualità non c'è un gruppo considerato di qualità che non non stampia anche vinile pensate ai radioed pensate appunto a tutti i gruppi considerati tra virgolette validi e quindi probabilmente questo succederà già sta succedendo appunto il mondo del pop si muoverà nel mondo del digitale a 360 gradi ma è un mondo che già adesso non è un mondo fatto soltanto di musica è un mondo che diventa non lo so il marchio di una bibita la Lady Gaga cola per dire cioè questo processo continuerà in maniera sempre più forte vediamo anche come i tempi si accorcino sempre di più no? se Madonna era stata incalzata da Lady Gaga che diventava la scelta della nuova generazione adesso Lady Gaga nel giro di pochi anni è già insediata da Miley Cyrus per cui sente l'esigenza di portare la provocazione a un livello sempre più più alto sempre più forte quindi il mondo del pop andrà a muoversi secondo queste dinamiche invece il mondo della musica di qualità sarà un mondo fatto di tante nicchie che probabilmente riporterà in auge il long term journalism come si diceva prima il vinile e tutta una serie di altre cose saranno mondi di nicchia probabilmente bisogna capire poi se appunto queste nicchie saranno talmente forti come appunto diceva Chris Anderson da creare un un mercato importante in qualche modo già lo sono e già lo vediamo vediamo l'effetto di parcellizzazione che che questo inevitabilmente provoca ma lo vediamo nella musica lo vediamo nei libri lo vediamo nel fumetto quanti fumetti ci sono oggi in edicola rispetto a quelle poche testate che uscivano negli anni settanta lo stesso editore Bonelli che per anni ha avuto soltanto quelle 20 testate adesso sta espandendo lo dicevamo ieri sera perché diventa fondamentale non parliamo poi appunto di Panini che fa una politica per cercare di coprire ogni possibile nicchia di mercato questo sta succedendo non è più possibile guadagnare tanto da una due dieci cose quello che sta succedendo adesso è che si guadagna poco da mille cose perfetto e allora io farei un altro applauso a Luca Valtorta quindi grazie per essere stati qui a noi ci vediamo domani sempre dalle nove avremo una sessione mattutina una sessione pomeridiana sarà tutto concentrato sulla musica e grazie per essere stati qua è stata una giornata piuttosto lunga però credo che sia stata anche proficua grazie grazie